Gli operatori turistici nelle prossime quattro settimane saranno sottoposti alla vaccinazione anti-covid-19. L'intento della Regione Campania è quello di pubblicizzare le isole del Golfo di Ischia, Capri e Procida, ma anche Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana all'estero e ai turisti italiani come luoghi sicuri. La notizia però non è passata inosservata agli operatori turistici del Cilento, che nel programma di De Luca non vengono affatto menzionati. A tal proposito il consigliere regionale d'Italia Viva, Tommaso Pellegrino e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha preparato una lettera indirizzata al presidente De Luca e all'assessore Casucci per chiedere la stessa attenzione riservata alla Costiera Amalfitana e Sorrentina riguardo ai vaccini. Io sto preparando una lettera al presidente De Luca e all'assessore Casucci, che chiaramente sono sempre attenti al nostro territorio, una lettera nella quale rappresento proprio, non soltanto l'importanza strategica del Cilento per il turismo e i passi avanti che il Cilento ha fatto negli ultimi anni da tutti i punti di vista. Sono tante le persone che investono in territorialità e investono in turismo nel nostro Cilento, è un territorio emergente, basta guardare quello che è successo l'estate scorsa dove abbiamo avuto un turismo di prossimità, il Cilento è stata una delle mie preferite. Andiamo a vedere i riconoscimenti che stiamo avendo dai visitatori, unico parco italiano, e lo sottolineo, unico parco italiano entrato nella top ten della classifica di TripAdvisor a livello europeo. Questo significa che oggi il nostro territorio, il nostro Cilento è uno dei luoghi più importanti nella regione Campania per quanto riguarda il turismo e quindi chiedo ovviamente anche per la prossima estate di far rientrare a pieno titolo il Cilento nella strategia di valorizzazione e di programmazione del turismo in Campania attraverso quindi progetti che riguardano l'immunizzazione, ma soprattutto noi dobbiamo dare un segnale che oggi venire nel Cilento, oltre a venire in un luogo bello e straordinario da tutti i punti di vista, si viene anche in un luogo sicuro e quindi la regione, così come può fare per altri territori, dovrà fare la sua parte anche per il Cilento facendolo rappresentare, mettendo in campo tutte le strategie per fare in modo che il Cilento possa essere un luogo più sicuro possibile. Quindi al pari di altri territori anche noi chiediamo la stessa decisione per rientrare queste strategie. Ma ripeto, conoscendo sia il Presidente Luca che sia la Sessore Casucci ci sarà sicuramente una risposta in questa direzione.